Amiamo dire popolo del miele, quando parliamo dell'ora solare, buongiorno, bentrovati e parliamo di cose che sono talmente dolci, talmente buone, talmente belle da assomigliare a quella nobiltà che è il miele. Invece qui cercherò di stare bella dritta, di indossare anche io virtualmente una divisa, perché oggi parliamo di quei sogni che si coltivano fin da piccoli e che quando saremo grandi ci porteranno chissà dove, io non so dove arriverà, ma so che il suo sogno è reale, è vero e che lui è un bambino straordinariamente bello e caro, puro e un ragazzo veramente in gamba, anche perché le gambe le usa per correre Emanuele Danieli, detto Lele, otto anni, giovanissimo bersagliere, bersagliere di fanfara, buongiorno, ben arrivato. Ben arrivato. Grazie. Grazie a te, sapessi quanto, poi qui oggi scateniamo tutte le zie che sono in me. Luca Lalli, capo della fanfara dei bersaglieri della sezione di Ladispoli e Cerveteri, maestro ben arrivato. Marco Danieli, il papà di Lele, che con la mamma fa questo capolavoro, perché è un capolavoro. Dunque, tutti abbiamo un idolo quando siamo ragazzini, l'idolo di Lele e un po' si vede anche da come sono vestiti uguali. Chi è? Lui. Quell'uomo laggiù? Sì. Il maestro? Sì. Perché? Perché da grande vorrei diventare come lui. Cos'ha di bello il maestro? Cos'ha di importante, di grande? Eh... Non lo so. Non lo so. Lo facciamo dire a lui? Ma senti, ma tu una cosa però me la vuoi dire. Poi vi spieghiamo perché sta vestito così e perché... Tu, quando è la prima volta che hai visto i bersaglieri? La prima volta che ho visto i bersaglieri è stato alla Dispoli, alla Sagra del Carciofo. E avevi quanti anni? Tre e mezzo. Sì. Tre e mezzo? È tutto vero, eh? Cioè, non è... Vedete la mia faccia? Io faccio la faccia da carciofo. Giustamente perché, come dire, arriviamo tra poco al maestro, partiamo prima dal papà. Allora, con il nonno andiamo a vedere quando passano la fanfara dei bersaglieri, quando passano i bersaglieri correndo e suonando. È una meraviglia, signor Marco. E piccolino che fa? Il piccolino appena l'ha visti si è innamorato della loro musica. Sentiva queste trombe squillare e da quel giorno vedeva solo i bersaglieri. Solo questi? Solo bersaglieri. Non chiedeva di vedere i cartoni animati, ma i video? I video dei bersaglieri. Dei bersaglieri. Di tutta Italia. Guardate che il colpo di fulmine non esiste soltanto in amore. L'amore scatta tra situazioni, persone, situazioni, persone e chi rappresenta qualcosa di altissimo. Il maestro Lalli che, come dire, si è trovato... Intanto maestro, grazie di essere qui. Grazie a voi e all'invito. Si è trovato per le mani questa mascotta ad un certo punto. Perché lei le ha chiesto da subito. Per quanto piccolissimo, a quattro anni, ha chiesto di cominciare ad avvicinarsi a voi. Si, si è vero. Non aveva ancora raggiunto i quattro anni. Chiese ai genitori di poter partecipare a delle prove, di incontrarci. di vedervi, insomma, quando suonate, quando studiate. Si, era rimasto affascinato, quindi voleva proprio conoscersi. I genitori lo portarono alle prove. Da quel momento, diciamo che non ci ha più lasciato, è assiduo. Devo dire che ha più presenze del sottoscritto. Arriva alle prove alle 20 e noi iniziamo alle 20 e 30, quindi costringe i genitori anche a tutte forze per venire. Quindi, Lele è diventato parte della vostra... Si, assolutamente. Dico bene fanfara? Si, si, si. Dico bene fanfara dei bersaglieri. Si, si, si. E a un certo punto, papà e mamma capiscono che è un colpo di fulmine, è amore. Amore puro, amore vero. E Lele riceve in regalo la prima tromba quando? L'11 ottobre del 2019. Che è un giorno speciale? Si. Cioè il tuo? Il mio compleanno. E' benedetto giorno. E ti vedi arrivare questa tromba? Si. E che cosa hai fatto? Dici che hai fatto? Mi sono preso a suonarla. Insomma, non è facile suonare la tromba? No, non è per niente facile. Papà e mamma non ci riescono. Abbia pazienza signor Marco, scusi ma papà e mamma non ci riescono. Tu ti sei messo a studiare musica, giusto? Si. E sei così preciso, ti presenti alle prove? Si. Si. Ed è bello suonare questa tromba? Si, è molto bello. Perché? Eh... Eh, a parole tue. Non so perché, perché... Mi fa sentire felice. Mi diverte tanto. Ti posso dare un bacio sotto al cappello? Dopo, però. Mi fa sentire felice. Allora, microfono alla mano? No, lo facciamo suonare dopo. Lo facciamo suonare dopo. Credevate? Aspettate un attimo. Lele studia musica, suona, studia molto nella fanfara e noi vi facciamo vedere Lele e la fanfara all'opera. Quel bacio che gli ho dato, che meraviglia. Andiamo, vediamo. Che ragazzo. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma sei bravissimo! Ma maestro, ma è bravissimo! Cioè, perché voi siete lunghi e alti e lui suona, cammina a passo veloce... Sì, nonostante le molte difficoltà che potrebbe incontrare per le piccole leve, le gambe piccoline... Per ora! Per il momento, però comunque si adatta perfettamente a noi. Riproduce fedelmente i miei movimenti, li ha imparati, devo dire, subito. Hai capito il tuo supereroe che ti dice? Sì, ed è così. Quindi è un po' anche, è uno scambio di supereroi questo? Non mi considero supereroe, però sono felice di poter dare questa impressione... Maestro, pure lei, mamma mia! Che meraviglia! In tutto questo il papà l'abbiamo riportato sulla poltrona perché stava camminando come un geco... E c'ero anche io, eh, sul soffitto, no? Perché fa scoppiare di orgoglio una cosa così. Sì, 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 per un genitore è una soddisfazione immensa. In più, in più, tra poco lo sentirete suonare anche qui in studio. Sapete cosa fa Lele? Va benissimo a scuola, riesce a fare anche questo. Ed è tutto vero. Noi vi chiediamo solo un istante di attesa e poi ritorniamo qui con il piccolo Lele, grande bersagliere, a tra poco. Allora, c'è Emanuele Danieli, che è detto Lele, che ha otto anni e che è a tutti gli effetti un bersagliere della fanfara dei bersaglieri. Ed è seduto qua, accanto a me, in tutta la sua bellezza. Luca Lalli, il maestro Luca Lalli, capo della fanfara dei bersaglieri della sezione Ladispoli e Cerveteri. Marco Danieli, il papà di Lele, grazie, avete fatto con vostra moglie una meraviglia. Lele è stato anche all'ultima adunata nazionale dei bersaglieri a Cuneo. Sì. E dicono che tu sia stato particolarmente felice, che tu ti sia addirittura commosso. Perché? C'erano tanti i bersaglieri. Sì, c'erano 85 fanfare. Wow. E come ti sei trattenuto dal voler suonare con tutte e 85? Tu avevi la tua divisa? Sì, sì. Eri bene. Quante persone hanno voluto fare la foto con te? Mezza città, praticamente. Solo perché l'altra mezza era al lavoro. E senti, andiamo su cose così. Quante ragazze ti inseguono e scoppiano d'amore per te? Non lo so. Non lo so. Ma noi lo sappiamo tantissime. Anche lì, mezza città. Ve lo possiamo garantire. E a questo punto, scusate, ogni promessa è un debito. Questo è un microfono. Questa è una tromba. Suonare qualcosa. Ma liscio, è così, tranquillo. Un esercizio che tu voglia fare, qualcosa che suoni con la tua fanfara. Possiamo? Sì. Vai. È sufficiente per far venire giù lo studio dagli applausi. Maestro, lei ha sottolineato la determinazione unica di questo bambino. Che sta anche con i piedini ben piantati per terra. Cioè lui sa di essere, appunto, dice c'era mezza città, però suona, fa il suo. Fa il suo, impara, ruba con gli occhi, ruba molto con gli occhi perché, come ho già detto prima, ha imparato tutti i movimenti al di là degli ordinativi, ma anche la postura, le posizioni. Praticamente riproduce fedelmente la mia. La sua posizione. Sì, quindi se sbaglio sbaglia con me. Se sbaglio sbaglia con lei, ma non sbagliate voi. Non sbagliate neanche a livello di, non sbagliate mai, a livello di valori. Quando voi passate, quando passano i bersaglieri, quando arriva la fanfara dei bersaglieri, è un orgoglio nazionale, ma sono anche tanti, come dire, dei secoli e dei valori che camminano con voi. Infatti è quello che tentiamo e speriamo di riuscire anche in futuro, è quello di portare con la nostra musica a rappresentare a chi ci ascolta determinati valori culturali, anche patriottici, ciò che ha fatto il corpo dei bersaglieri nel corso di questi tantissimi anni, che tanti ragazzi non lo sanno ed è per questo che noi cerchiamo di proporlo e di invitare sempre i ragazzi ad avvicinarli a noi. E questo è stato uno dei casi in cui non c'è stato neanche bisogno di farlo, perché lui neanche quattro anni si è avvicinato. Quindi il potere di questa divisa ha potuto di più. Certamente, parlo al papà di Lele, ecco, non essere stati voi a portarlo, ma essere stati voi trascinati. Siamo stati trascinati da lui. Trascinati da lui. Sì, sì. Ogni quante volte avete le prove? Una volta a settimana, il martedì... E il martedì non c'è cinema, non c'è niente, no, c'è Lele. Assolutamente, solo le prove. C'è Lele con le sue prove. Con le sue prove. Ma c'era qualche amante della musica in famiglia? Guardi, c'era un mio nonno che suonava nella banda del paese il clarinetto, forse. Chi lo sa, forse qualcosa è chiaramente accaduto anche su questa testolina. Questa divisa costruita apposta è una cosa di una tenerezza unica, cioè, no, no, tenerezza. Tu sei bersagliere, scusa, ho detto tenerezza, mi è scappata. Cioè, sei bersagliere, bersagliere. Alzate un po' in piedi, facciamo vedere. Beh, guarda qua. Scusate, aspettate, signori. Guardate qua, se non è perfetto. Bersagliere puro. Un piccolo, grande bersagliere puro. Riposo. Si può accomodare. Allora, il sogno a questo punto, Lele, qual è? Entrare in fanfara nazionale? Sì, il sogno è quello. Il sogno è quello. E pensi che ce la farai? Sì. È determinato. Non so da chi abbia preso, da mamma, da papà, da tutti e due, ma è... Da tutti e due. Da tutti e due. È determinatissimo. Il maestro, quando tu studi, il maestro dice, mi copia in tutte le cose che io faccio. Ecco, qual è la cosa più importante da copiare di questo maestro? La dote principale, il valore principale? E quando noi marciamo, seguire bene il passo, se no poi sbaglio. Però tu sei più piccolo, di statura, per ora, e ce la fai a seguire bene questo passo? Alcune volte sì, alcune volte no. Senti, e perché c'è questo movimento, si sposta? Prima vedevamo le immagini, no? È naturale per voi spostare la tromba da destra a sinistra. Sì. Perché? Perché va avanti una gamba, è come se cammini e vai indietro il braccio. Pensa che l'ho capito adesso. Andiamo bene. Allora, quando lui dovesse... Quando lui entrerà in fanfara nazionale, maestro, non è il dovesse, non c'è. Insomma, lei potrà dire, l'ho cresciuto io. Anche sì. Sarà un vanto, una soddisfazione prima di tutto. Una soddisfazione. Infatti, non so se essere felice o meno, perché quando entrerà a far parte del gruppo che avrà raggiunto l'età per poter far parte del gruppo, purtroppo non avremo più la nostra mascotta. Però sarà una mascottona, avrete la soddisfazione di dire no? Sì, comunque sia, si è formato con noi. Una soddisfazione grandissima sarà questa, insomma, essere riusciti in una nostra, diciamo, missione, tra virgolette. Maestro Lali, lei non lo dice, ma una cosa stupenda è che quando lei dirige, suona e corre con i suoi, lei in realtà ha sempre un occhio a questa mascotta, no? È una responsabilità, insomma, che voi avete. Giusto? Ma anche lui c'ha l'occhio a me, quindi abbiamo un certo felice. Certo, signor Marco, bello è bello sto figlio, proprio l'avete fatto con tutti i crismi. Bello fuori e bello dentro, così si dice. Quindi tu, niente calcio, niente, no, niente supereroi da cinema, niente bersagliere. Sì. Ma te la sei fatta a Porta Pia una foto vestito così? Sì, però non so se papà ce l'ha. Chiudiamo su questo dubbio familiare. Ma come non ha la foto a Porta Pia? Ma lo porti subito a Porta Pia? No, no, ce l'ha la foto a Porta Pia, sì, sì. Ce l'ha, il maestro dice, guarda, ce l'hanno, è che le foto si fanno tutte con questi telefoni, adesso fatte la stampare bella di carta grande così, la metti in camera e quando sarai diventato un grande bersagliere della fanfara nazionale saprai però che il tuo supereroe è sempre lui, giusto? Tu però da oggi sei un po' il nostro supereroe, lo sai? L'importante è questo, lo sa. Grazie Lele, grazie veramente, grazie tesoro, grazie infinite di essere stato con noi, grazie. Grazie a lei, grazie maestro.